Caporta, dal grico Kao più Porta, contrazione linguistica di Porta Sud, è ubicata al ridosso del castello e rappresenta uno degli accessi al centro storico, che insieme alle mura un tempo lo proteggevano da possibili attacchi esterni. La caporta, semplice nella sua struttura architettonica, è ingentilita da una cornice e sulla parte superiore della stessa da sovrarilievi di due figure che sostengono ai lati lo stemma civico e quello araldico di Giovan Battista de Monti. In alto, un tempo era ben leggibile la scritta INVIDIA ENOPIA FA, per invitare i visitatori del borgo antico a non avere invidia di tutto ciò che la cinta muraria racchiude ancora oggi al suo interno.